Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ETA Oggi siamo su The Infected Un gioco che è passato, se vogliamo, in sordina su Steam è uscito da poco tempo ed è a un prezzo eccezionale perché costa 11 euro e 59 centesimi insomma, meno di 12 euro Che cos'è? E' un survival con zombie vampiri, insomma, si chiamano i Vambis misto tra vampiri e zombies, a quanto io ipotizzo, insomma l'ho giochicchiato un po' e devo dire che non è male in pratica avete lo sciame che vi attacca e potete scegliere quando abbiamo i predatori e abbiamo appunto i nemici in questo caso andiamo a caricare una partita che avevo iniziato proprio da poco il bello di questo titolo, che come vi ho detto è passato un pochino in sordina è che è un open world con delle meccaniche molto interessanti perché ha delle meccaniche di temperatura, di temperatura corporea il tempo atmosferico ci sono le stagioni addirittura pensate che c'è anche la possibilità di, ovviamente, di cacciare di costruire delle basi ed è in italiano, soprattutto tra tutto, anche piuttosto bene, devo dire qua possiamo raccogliere i tronchi o distruggerli l'unica cosa che mi sento di dire è che il menu è veramente basic, basic quindi, insomma, dovete calcolare quello stiamo raccogliendo i tronchi ovviamente possiamo raccogliere anche le cose piccole e cos'è che ora si invece ce le carichiamo in spalla e si vaga ricevo, poi c'è la possibilità di costruire una base la possibilità di elettrificare la base nel senso di mettergli generatori di corrente batterie la possibilità di riempire con l'acqua piovana dei contenitori di fare veramente veramente un sacco di cose e l'unica cosa, diciamo è che ricorda un pochino la disposizione del menu un po' vabbè, a me sono nostalgico un po' ricorda Ultima Online ma in realtà ricorda molto Grinell anzi a dire la verità lo ricorda in tutto e per tutto perché possiamo andare a mettere i vari componenti qui e andare a craftare la ricetta quindi bisogna fare attenzione a posizionare prima di tutto bene tutto e poi possiamo andare a dividere per uno le varie cose e adesso qua mi serve la corda diciamo per unire per unire tutto però ecco bisogna fare attenzione a distribuire bene tutte le varie cose vi faccio vedere lo zaino appunto qua abbiamo la possibilità di vedere i cibi che possediamo quindi abbiamo della carne caruda abbiamo dei cetarioli abbiamo uno stufato di carne che ha una scadenza in termini di vedete il tempo sta scendendo la borraccia per bere acqua abbiamo questo ricorda Grinella in ogni ogni cosa perché qua possiamo andare a mettere i vari tool che ci craftiamo da dal menu qua abbiamo la nostra armatura insomma tutto quello che abbiamo addosso abbiamo la temperatura corporea qua in alto che attualmente è coperta dal menu la temperatura esterna e il bello di questo titolo è la capacità di trasporto e qua abbiamo le varie costruzioni posizionabili o meno quindi abbiamo la possibilità di fare adesso in questo caso volessi fare che so io ho fatto l'accetta vorrei fare la lama l'ho fatta il piccone di pietra il piccone di pietra è una ricetta che mi chiede un bastone una lama di pietra e due fibre vegetali 1 1 e 2 abbiamo la freccia la freccia addosso l'arco la lancia abbiamo la lancia addosso la torcia si possono poi fare veramente un sacco di cose stiamo parlando di armi stiamo parlando di questa sorta di encecopedia adesso con le varie risorse i vari cibi e bevande le varie armature che possiamo equipaggiare le altre cose tra cui le varie pentole abbiamo i posizionabili che sono il banco banco da sega abbiamo il sega circolare abbiamo il banco da lavoro e che chiedono veramente una marea di materiali mentre invece qui abbiamo la possibilità di mettere delle fondamenta quindi andare a posizionare delle cose e poi andare a rifornire un po' come medieval dynasty in questo caso quindi con la E andiamo a costruire possiamo metterne più di 1 e poi porteremo all'interno i vari materiali richiesti quello che vorrei provare a fare adesso è con il tasto I ovviamente accediamo al menu provare a fare quello che vi avevo vi avevo detto vi avevo detto con le fibre vegetali quindi me ne servivano dividi per 1 dividi per 2 ok no ho detto dividi per 1 1 dividi per 1 2 un bastone e poi cos'è che mancava? la pietra o la lama eh sì il problema in realtà è che mi manca la pietra quindi adesso li tengo qua andiamo a fare un po' di pietra così proviamo vi faccio vedere anche un pochino il crafting tra l'altro vedete qua abbiamo anche la possibilità di ricercare tecnologie la tecnologia il frigo pannello solare la batteria solare il telaio la lampada la stufa l'estrattore di petrolio il laboratorio chimico il banco avanzato quindi nonostante abbia questi menu un po' così arcaici il gioco non sembra assolutissimamente male e no volevo vedere un attimino il piccone un bastone lama di pietra no la lama la lama ce l'avevo ce l'ho ce l'ho ce l'ho allora quindi andiamo a fare crafting quindi abbiamo detto due il bastone che tecnicamente veramente servirebbe uno e la lama ricetta non valida ovviamente dividi per uno questo può essere un po' spiacevole un po' scomodo infatti vedete che adesso si può creare il piccone e il piccone adesso ci viene equipaggiato dovrebbe essere qui eccolo qua il piccone è qua quindi possiamo andare a scavare le pietre e niente qua vedete che abbiamo le varie zone dove possiamo andare a esplorare e ovviamente esplorando potremmo incappare in qualche in qualche animale feroce qualche orso insomma cose del genere si possono incontrare anche gli zombie ovviamente lì dove ci sono quei simboli delle case ci sono degli edifici che possono essere saccheggiati ma in realtà non è proprio comodissimo perché ci sono all'inizio almeno per le armi che abbiamo all'inizio ci sono dei vambils che non sono solitamente deboli premendo il tasto 1 e 2 shiftiamo ovviamente anche il 3 e il 4 insomma in base a cosa abbiamo nello zaino possiamo andare a scavare per questo caso non so effettivamente se ci troverò qualcosa di no sasso piccolo io li prendo perché sono rarissimi da trovare in giro questi quindi direi che siamo pieni dovremmo farci una cassa io vi consiglio perché comunque so che tanti di voi amerebbero vedere una serie su questo gioco vi consiglio di andare a vedervi il canale di Amon Rouge Amon Rouge che sta facendo una serie su questo gioco che devo dire che mi sta prendendo anche a me perché lo seguo e vedo tutto quello che costruisce tutto quello che mi sta anche snocciolando un pochino anche i difetti e i limiti del gioco ma devo dire che io l'ho visto da lui quando me ne sono innamorato poi il gioco non aggiunge assolutamente nulla di nuovo al panorama dei dei survival anzi anzi dire la verità ricorda molto un altro titolo che giocava molto sul discorso stagioni che giocava molto sul concetto delle temperature e sono morto bene vabbè si riparte da qui e abbiamo ancora tutto nello zaino siamo stati abbastanza graziati e potete andare vedete ad abbattere tutto qualsiasi cosa ne troviate in giro quindi in questo caso abbiamo trovato i tronchi i tronchi li possiamo raccogliere non li possiamo portare più di tre mi pare in spalla figata il cielo figata anche la pioggia l'acqua dovrebbe essere possibile riempire la borraccia e i beri anche qua l'acqua dovrebbe essere pulita quindi bisognerebbe pulirla proprio quindi farla cuocere bollirla un pochino in modo da uccidere nei batteri e non è anche qui non è un gioco per tutti come ho detto non rinnova assolutamente nulla però ad esempio per uno come me che ama tantissimo quei giochi dove si fanno le basi ma soprattutto dove vuole una base che non sia la semplice capanna ma un qualcosa anche di elettrificato cioè insomma con il generatore tutto la stufa per stare al caldo questo assolutamente è una gran una gran possibilità andiamo a provare a piazzare una casa voglio metterla in una zona qui così e uno due tre quattro iniziamo così intanto tab annullo qua mi servono aggiungi materiali tronco e assi il problema è che le assi non mi bastano quindi io inizio a mettere cioè le assi non le posso fare è quello il discorso allora raccolgo il tronco bene abbiamo fatti tanti a dire la verità quindi li aggiungo raccolgo tronchi come se non ci fossero domani aggiungo materiali quattro su quattro inizio ad aggiungere link di là e il problema sono le assi a dire la verità quindi adesso cerchiamo di capire come depositare le assi come produrre le assi quindi per una volta sto i andiamo nuovamente su l'enciclopedia e vediamo di fare banco da lavoro banco da sega tronco per quattro la posizioniamo magari qui me la fai piazzare qua perché non me la fai piazzare qua mi servirà un qualcosa su cui piazzarla immagino una foundation anzi magari vediamo un attimo come si fa a creare un asse banco da sega eh sì eh sì dobbiamo farlo sul banco da sega per forza il banco da sega però non me lo fa piazzare qui come mai posso metterlo qui no? deve essere una zona piatta piana per forza vediamo se posso fare qualcos'altro allora vediamo un attimo vediamo se posso andare a mettere un'altra sorta di ehm fondamenta tetto muro interno soffitto muro eh no stoccaggio molto interessante anche questo vedete l'energia abbiamo la batteria solare per una tecnologia che non abbiamo ricercato ehm la rivola il falò il catino per l'acqua che in questo caso dovrebbe raccogliere l'acqua pivana la stufa in metallo eh ci chiede veramente tantissimo qua allora asse e tronchi eh no andiamo a fare il banco da lavoro no eh no eh in realtà il banco da sega io non riesco a piazzarlo e non so nemmeno il motivo quindi eccolo qua oh costruiscilo bravo bravo ragazzi adesso abbattiamo un albero e lo facciamo velocemente così riusciamo a fare le nostre le nostre assi richieste quante ce ne servono quattro forse tre ne manca uno ok completato completato il banco e quindi posso prendere altri tronchi e posso metterli qua ah molto semplice questo eh allora sta tagliando e mi ha fatto l'asse ma dai cioè taglia da solo no sì sì sta funzionando così il problema è che come si fa a prendere le assi non ho spazio in inventario cioè posso prenderle ma dovrò buttare qualcosa conferma butta anche questo vediamo se possiamo prenderla così no aggiungi ton clic destro prendi assi ah col clic destro ok ignoranza mia ma infatti mi serviva la zona ok mi serviva la zona nell'inventario ne ho prese quattro adesso io prendo la quinta e la metto qua così adesso aspetto che mi generi un'altra un'altra asse e poi raccolgo una sola perché sono staccabile solo poche alla volta allora qua mi mancano sei assi aggiungo materiali cinque me ne manca una ancora fortunatamente ho ancora no 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 la linea da hard non mi interessa ah un'altra asse anche qua ok torniamo là depositiamo l'ultima e abbiamo il primo pezzo di base ci vorrà un po' a produrre tutto quello che ci serve insomma fino fino alla conclusione insomma so che questo gioco potrebbe fare la fortuna anche di persone che conosco come ad esempio Argonaut che adora questi survival come lo dico spesso per tanti giochi questo non è un titolo per tutti se vi piace il survival questo è un modo of the same perché non innova non da nulla però la nota positiva di questo titolo che è veramente un qualcosa in più di eccezionale il prezzo cioè prezzo meno di 12 euro 11 euro e 50 insomma è ragazzi un prezzaggio è proprio è proprio un delitto non non approfittarne se vi piacciono il survival non sembra nemmeno fatto male vi invito a vedere perché io poi vi faccio pubblicità a un altro canale che non conosco onestamente ma perché so che lui lo fa fa con passione questo questo gioco lo sta portando come serie quindi io più che consigliarvelo non so che dirvi perché veramente il gioco se lo vedete da lui ve ne innamorate pure voi allora non abbiamo via la legna da ardere volevo provare a farmi anche un fuocherello anche perché io avrò bisogno tra un po' cioè l'interfaccia deve essere rivista perché qua vedete aprendo la parte della fame potete mangiare e avete vari tipi di fame la sete va bene la sete però poi proteine carboidrati grassi vitamine e quindi bisogna anche mangiare non è originale come meccanica questo di sicuro però dà sicuramente profondità si spera che un domani aggiungano migliori in un po' quest'interfaccia che è proprio ai limiti dell'inguardabile ok abbiamo completato la seconda parte della nostra base della nostra baracca l'altra cosa che voglio fare adesso prima di di concludere questo primo video è la costruzione se riesco del del fuoco sasso piccolo da 10 legna da ardere ok lo piazziamo lì tab ok aggiungo materiali vedete che stiamo aggiungendo sassi e sassi non ne abbiamo più della verità adesso però fortunatamente ci sono i sassi qui e possiamo andare a scavarli perché sassi non se ne trovano per terra però si trovano così quindi non è un problema all'inizio si ci si dispera abbastanza perché se ne trovano veramente pochissimi però poi poi si trovano sono praticamente sovraccarico quindi ne butto due perché ero over come peso vediamo adesso che cosa manca aggiungiamo i materiali e mi manca c'è anche la linea da ardere quindi dovrei abbattere altri alberi credo no la linea da ardere si trova per terra mi sa vediamo ma tronco vorrei abbattere no la linea da ardere no si trova si trova per terra vagando un pochino in giro o qua su questi alberelli piccoli qui magari no sono tronche anche qua niente legna da ardere non voglio poi neanche perdermi nella foresta perché sicuramente già adesso ho perso il ho perso il il mio insediamento il mio il mio tavolino quindi insomma non lo ritroverò mai più però in pratica con il tavolo con il fuoco è possibile poi andare a cucinare mentre invece adesso abbiamo visto abbiamo molta sete possiamo cliccare col destro tenere per molto andare a bere non c'è animazione non c'è nulla però abbiamo curato quello andiamo a mangiare la carne crevuda tra l'altro e quindi non so che ha effetti però mi mangio anche un bel cetriolo e vabbè allora non abbiamo visto nulla però per quanto riguarda a parte quella morte stupida che ho fatto per quanto riguarda gli infetti sarà la mappa di gioco è questa siamo arrivati fin qua quindi la mappa come potete ipotizzare non è grandissima però ci saranno delle incursioni vedete che qua poi è quello che abbiamo esplorato è quello che effettivamente è questi sono gli avamposti vambi ok quindi sono come abbiamo visto popolati da nemici non ci sono mezzi di trasporto quindi si vaga a piedi almeno da quanto io so e come ho detto se amate i survival volete qualcosa di piuttosto completo quindi avete visto che le meccaniche non sono neanche eccessivamente difficili amate quelle basi in cui potete generare elettricità quindi alimentare tutto tenervi al caldo insomma stare bene e avere tanti parametri vitali a cui far caso questo Deinfected ha un prezzo veramente imbattibile 11 euro e qualcosa 11,54 11,59 quello che è comunque sotto i 12 euro normalmente un gioco del genere lo trovate dai 15 ai 20 euro se non di più quindi poi prende a piene mani a livello grafico per quanto riguarda il menu da Grinell quello è innegabile però non è non mi sembra assolutamente male ora io attendo il vostro parere di questo video flash se lo avete provato fatemi sapere la vostra esperienza e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao 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 Grazie a tutti.